Sei pronta a diventare campione del mondo con la slot di Soccer Ultimate, offerta gratuitamente da CheCasino.it. Allora, sei pronta a dare un calcio al pallone a vedere dove farai gol? Sì! Ok, palla al centro e fischio d'inizio. Giochiamo! 20 linee! Oh, 20 linee, accidenti! E partiamo subito! Vediamo se vincerà Brasil, Italia, USA o Argentina. Ci diamo! Partiamo al top! La palla è dove fa gol! Ok! Wow, wow, wow! È una pazzesca giocata d'inizio! Partiamo subito anche con Wild, che è il nostro Jolly. Vinciamo 22 e non possiamo che andare avanti! Ok, rischiamo un po' di più. Scendiamo, dai! Partiamo un pochino con 11. Alziamo però la puntata e la facciamo a 0,15. Ok! Ehi tu, dove lo fai il gol? Vediamo dove ci conducono le scarpette. E abbiamo sempre Wild, Brasil! E ok, anche l'Italy. Vinciamo anche 10,50. Niente male, dico, niente male. Ok, tira un respiro. Wow, riprendi fiato. Aumenta le linee a 13, anzi a 14. E alziamo la puntata a 0,20. Pronto? Un calcio al pallone e vediamo dove farai gol. Io dico che lo fai all'Argentina, che ci porta a vincere altri 6. Ok, torniamo alla grande. Finiamo in bellezza questa partita vincente. Caspita, puntiamo il massimo e partiamo. Vediamo cosa ci riserve se riusciremo ad alzare la Coppa dei Campioni del Mondo. L'ultima... Io dico che sì! Sì! 225! Wow, fantastico! Ehi, grande giocata! Siamo partiti a 2.000! Siamo finiti a 2.248,05! Io direi, un pochino, Campioni del Mondo lo siamo anche noi! Grandissimo! Senti, ti sei divertito a Soccer Ultimate? Io dico di sì! Continua a giocare con noi, continua a giocare su checasino.it! Puoi giocare su tablet, computer, smartphone... Insomma, divertimento ovunque, divertimento sempre! Non ti resta, quindi, che andare su checasino.it!